L'incidente nella mattinata di venerdì 8 febbraio, poco dopo le 10, all'incrocio tra strada Tessano e via Druento, di fronte allo Juventus Stadium a Torino, a scontrarsi una Fiat Pando e una Fiat Tipo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Torino, la polizia municipale e la Croce Verde. Entrambe le vetture si sono ribaltate, la Tipo completamente, mentre la Panda si è adegiata su un fianco. Le conducenti, dalle prime informazioni pare fossero due donne, prontamente soccorse, sono state trasportate una all'ospedale San Giovanni Bosco e l'altra all'ospedale Maria Vittoria, accertamente in corso sulla dinamica. Grazie. 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 Grazie.